Buongiorno, ben ritrovate sul nostro canale. Io sono Piero Luisa e mi auguro che abbiate passato un buon Natale e un buon anno, un buon inizio d'anno. Avete seguito i consigli di Giorgetta? Vi aveva consigliato degli ottimi libri e io in questa occasione voglio leggere qualche pagina di questi libri col permesso dell'autrice di Eureka Coccos che è anche una mia grandissima amica e giusto per invogliare chi ancora non l'avesse fatto a prendere in mano questo fantastico libro. È una vita, è pensare che è ancora così giovane di Eureka, è una vita intensa, una vita anche difficile, molto difficile ma sempre improntata a grande fiducia e un grande entusiasmo per la vita. Anzi vi voglio svelare un piccolo segreto della mia famiglia. Mio figlio si è appena sposato con una splendida ragazza Alice e quando sono partiti per il loro viaggio di nozze hanno portato con sé questo libro e mio figlio mi ha rivelato al suo ritorno. Quando sentivo piangere Alice voleva dire che aveva finito un altro capitolo del libro di Eureka. Questo per dirvi l'intensità di questo racconto. Qualche esempio. una delle cose più belle dell'inverno era sentire il crepitio della legna che ardeva nel camino e l'odore della legna che bruciava. Il gelo alle finestre faceva i suoi disegni sui vetri e noi nipoti stavamo in casa ad ascoltare le storie di una volta. La casa di mia nonna era piccola, d'inverno riscaldava solo due stanze e oggi capisco che in realtà si scaldavano anche i nostri cuori. Noi bambini dormivamo tutti in una stanza, in una specie di letto, leianca, fatto di argilla, sotto la stufa legna che riscaldava tutta la stanza. Questo letto gigantesco ospitava tranquillamente otto, nove, dieci bambini. L'altra stanza si chiamava casuaglie. Era molto grande, c'erano sia il tavolo per mangiare sia i letti che erano di ferro. La parte inferiore era fatta di tante molle e i materassi prendevano la forma del corpo. Ci piaceva soprattutto saltarci sopra. Quando eravamo soli, poiché se ci vedeva la nonna erano guai, diceva che si rompeva il letto. Questa è un'immagine bellissima. Se voi andate a cercare in google immagini questi letti e come erano fatte queste leianca fantastiche. Io immagino il calore, tutto il calore del fuoco, infanto erano proprio costruiti sopra la stufa, in parte al forno dove ci si metteva dentro la legna. E poi la bellezza delle decorazioni, delle coperte colorate, addirittura delle pellicette. Immagino questi bambini a casa della nonna che fanno festa sui loro letti, oppure in questa leianca che ha anche un aspetto veramente molto bello e sicuramente in zone così fredde sarà stata anche senz'altro molto utile. Un altro esempio? Sapete cosa vi dico? Da qualche parte ho letto che un bambino si sviluppa a livello affettivo e cognitivo fino a 7 anni. Perciò sono molto importanti i primi 7 anni di vita. Come sono stati per me? Come li ho vissuti? In quel periodo mia mamma è stata magnifica, affettuosa e amorevole. Ricordo la nostra prima casa, un piccolo monolocale pieno di particelle d'amore. Ricordo la mamma con i suoi lunghi capelli neri sciolti al vento. Una donna giovane e bella. Ricordo che certe volte si faceva una lunga treccia e io correvo ad abbracciarla. Lei si prendeva cura di me, mi pettinava, mi metteva i vestiti più belli, spesso cuciti con le sue mani. La mia vita è stata turbulenta, ma penso che se riesco a ricordare il mio passato senza piangere vuol dire che sono guarita. Se posso ricordare i momenti felici e viverli come se fosse ieri significa che li ho vissuti intensamente. La separazione ci ha insegnato, quanto sia grande, la gioia di stare insieme. Fantastico, scelgo questo! evidentemente era scritto nell'universo che io e Vano dovevamo stare insieme. Ho ascoltato il cuore e non la testa. La testa avrebbe detto scegli Timisoara per realizzare il sogno della mia professione, ma il cuore voleva solo lui, il mio amato Vano. È stato così che ho scelto scienze politiche a Bucarest, la sua stessa facoltà, la stessa università. In realtà avevo scelto vostro padre, non l'università. Ho firmato i documenti e ho stretto la mano ai professori, sospettando che sapessero qualcosa della mia storia con il vostro papà, perché ho notato che sorridevano con un po' di malizia. Senza obiettare più di tanto la mia decisione di cambiare la scelta della facoltà all'ultimo minuto. Sono uscita con le guance rosse dall'emozione, per la gioia di aver ottenuto quello che dettava il mio cuore. Subito si è avvicinato Vano. Allora, come è andata? Mi puoi fare gli auguri? studieremo insieme scienze politiche a Bucarest. Stessa università, stessa facoltà. Chi diverti a scherzare con me? Non è affatto uno scherzo, è tutto vero. Non ci posso credere. Il giornalismo? Non mi interessa quello che studio. Per me è importante con chi studio. Mi hai detto che gli occhi che non si vedono si dimenticano, ma io non voglio essere dimenticata per un'ambizione. Il mio giornalismo non è importante tanto quanto lo sei tu per me. Mi ha seguito un bacio appassionato. Ancora non potevo sapere che questa scelta avrebbe cambiato per sempre il mio destino, il nostro destino. Grazie a questa decisione ho preso la laurea più bella della mia vita, una famiglia. E grazie all'uomo a cui volevo stare vicino ho avuto il regalo più bello che la vita mi potesse fare. Voi, i miei figli. Ricordatevi di ascoltare sempre il vostro cuore. Un altro libro di cui vi ha parlato Giorgetta è stato Mamani, la profezia della curandera, di cui in questo momento non ce l'ho per le mani, ma ne ho un altro grandioso. Donne che corrono con i lupi. L'ho letto una volta, due volte, caspita, non è facile. È un libro impegnativo, ma è un libro che consiglio a tutte le donne, a tutte le donne che... Sentiamo cosa dice lei stessa nella introduzione. Quali sono alcuni dei sintomi di una relazione infranca con la forza selvaggia della psiche? Sentire, pensare o agire cronicamente in uno dei modi seguenti significa aver parzialmente deciso o completamente perduto la relazione con la psiche istintuale e profonda. Esattamente quello che Viorgetta non aveva fatto, perché lei sentiva profondamente il suo istinto e il suo cuore. Allora, ricorrendo esclusivamente al linguaggio delle donne, ecco di che si tratta. Sentirsi straordinariamente aride, affaticate, fragili, depresse, confuse, imbavagliate, zittite, appiattite, sentirsi impaurite, esitanti o deboli, senza ispirazione, senza lefacità, senza sentimento, senza senso, cariche di vergogna, cronicamente evanescenti, volatili, ferme, sterili, compresse, pazzi. Sentirsi impotenti, cronicamente in dubbio, vacillanti, bloccate, incapaci di determinazione, di dare la propria vita creativa agli altri, di rischiare nella scelta dei compagni, del lavoro o delle amicizie, sofferenti per quel vivere al di fuori dei propri cicli, iperprotettive nei propri confronti, inerti, incerti, titubanti, incapaci di darsi un ritmo o di porsi dei limiti. Non insistere sul proprio ritmo e la propria misura, essere impacciate, essere lontane dal proprio Dio o dai propri Dei, essere separate dalla propria rivivescenza, affogate nella routine domestica, nell'intellettualismo, nel lavoro o nell'inerzia, perché questo è il posto più sicuro per chi ha perduto i suoi istinti. Paura di avventurarsi da sole o di rivelarsi, paura di cercare una guida, una madre, un padre, paura di mostrare il proprio lato imperfetto, se non è ancora un'opera completa, paura di partire per un viaggio, paura di occuparsi di un altro o di altri, paura che venga, se ne vada, decata, umiliarsi davanti all'autorità, perdere energie di fronte a progetti creativi, trassalire e ritrarsi, umiliazione, angoscia, torpore, ansia. Che quadro angosciante! Eppure tutte queste sono manifestazioni o sono caratteristiche che alcune donne sentono, perché hanno perso il contatto con il seguito profondo, hanno perso la capacità di seguire il proprio istinto. E questo libro è destinato proprio a queste donne, a queste donne che non vogliono fermarsi davanti alle imposizioni di un padre, alle proibizioni di un marito, al sentirsi costretti ad essere una madre perfetta, una moglie perfetta, il lavoro, la casa. E così perdiamo la parte più importante dell'essere donna, che è una parte creativa, che è intuitiva, che è generosa, accogliente. Sicuramente non perdiamo questo contatto con noi, con il vero sé di noi donne che è enorme, è grandissimo. E Brilla Donna ve l'ha dimostrato più di una volta, abbiamo fatto tutte un grande percorso. Ve lo ripeto, così come vi ha consigliato a Giorgetta, guardate, acquistate, leggete questi libri, sono incredibilmente istruttivi per noi donne. Alla prossima!